Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Sky House Oh ma io sono qui che sto cercando di buttare giù un creeper Ok, ok, ho buttato giù il creeper C'è in un certo senso Fatto sta che sono qui perché? Perché ho creato un ponte in questo nuovissimo episodio di Sky House Ho già detto Sky House, non si mi pare di sì Ho creato un ponte che fa da lì Passa attraverso l'isola di sabbia Non la tocca però perché è un po' quella che altrimenti cadeva tutto E poi sarebbe stato un casino Prende quest'altra cesta e arriva in quest'igola qui Che sinceramente non so Ah, la lava, ok E passa e arriva fino a quest'altra cesta Mi manca solamente quell'altro cubetto di sabbia E magari poi andiamo a vedere bene cos'è Comunque prendiamo qui il da... Voglio prendere davvero qualcosa? Sai che forse mi conviene prima tornare a casa? Per il semplice motivo che è pieno di mob per strada E sinceramente non so neanche... Porca troia, sono un cugnone di merda Porca troia, nooo Che fail Che fail Non ci voglio credere Non ci voglio credere Per fortuna che mi è ricresciuto l'albero Altrimenti non avevo manco il legno per continuare la serie Che sci... Che morte stupida Ho scavato io quel blocco due secondi prima Che morte stupida Vabbè, vabbè Non fa niente Non fa niente Non siamo più forti di così Non siamo forti davvero Non siamo forti dentro Non siamo forti fuori Siamo forti Essenzialmente Per fortuna che non avevo con me ne secchi Ne altre cose L'importante Mori Non vuole scendere Vuoi andare giù per favore? Ho fame E che ti conosce? Mi ha fatto rovinare il campetto A me serve il cibo, si State un po' calmo Ok, molto meglio Dicevamo Facciamoci sto piccone di pietra Mi sa che aspetto il giorno comunque per andare avanti Farmo un po' di roba Vedo come funziona la situation Perché andare così non mi ispira troppo È pieno di mob Troppi mob Ok, è giorno Ho con me un po' di blocchi Quindi non preoccupiamoci troppo Qua c'era della lava ma l'abbiamo presa Quella cesta l'abbiamo presa Perfetto Visto che abbiamo di nuovo tutta la fame Direi di correre Così andiamo più veloci E andiamo a vedere cosa c'è In quest'isola Nella sabbia Qua l'abbiamo già preso esatto Andiamo qui Sono morti gli scheletri Che cosa buona e giusta Perché posso saltare qui Prendere queste cose Io ho paura che se tocco Questa sabbia Con dei blocchi Cade tutto E infatti Guarda è caduto tutto Solo aprendo la cesta Figurati Figurati Qua è pieno di ossidiana E di mele Va bene Non ne capisco bene Il significato Ma perché mi fa piazzare blocchi Facciamo così allora Ho un bel po' di ossidiana Com'è Ne ho prendere semplicemente Quello che c'è anche In quella cesta Perché non le ho aperte ancora Sono solo passato vicino Poi Altra ossidiana Ok E torno indietro ora Ora torno indietro sì E poi vado a prendere L'ultima cesta Quella là in fondo E magari prendo anche la lava Perché ci sta Tutta questa ossidiana Non so cosa mi può servire Forse per il coso del nether Può essere Sai che forse per un portale del nether È ciò che mi serve Sono dieci pezzi che stavano per il nether In effetti ora ne ho dieci pezzi esatti Sarebbe essere ciò che cercava Di farmi capire E ho anche una mela Ma la mela la lasciamo da parte Invece useremo un po' di questi blocchi Qui che ho Per fare gli slab E con questi slab Iniziamo a creare un ponticello Che vada Verso Quell'altra isola In modo da creare una specie di base Gigante Come avevo anticipato Nello scorso episodio Tra l'altro sono contentissimo Di come è dato il primo episodio Stracontento Ero sicuro Che questa serie vi sarebbe piaciuta E sta per uscire La nuova Antfarma Sono contentissimo Per questa cosa Tra l'altro Potrei buttarmi Buttiamoci Siamo forti E evitiamo La lava Che in realtà è tanta roba Cosa c'è qui? Un altro diamante Ora Sono stato a Romics Settimana scorsa E c'è qualcuno C'è un ragazzo Che mi ha fermato E mi ha detto Suri nella Sky House Guarda che puoi cuocere I diamanti Non so quanto questo Sia vero Ma provare Non nuoce E oh mio dio E' vero Possono cuocere i diamanti What the fuck Ok questa ti giuro Che non la sapevo Ma è una cosa Che fa lui Con i command block Perché non si possono cuocere Nella vita reale I diamanti Cioè Penso di no Ok Ho due diamanti Potrei farmici una spada Ma Però li terrò da parte Penso sia la cosa più saggia da fare Quello che invece posso fare Prendi un altro po' di cobblestone E con I nostri amici Sonslab Andrei a vedere cosa c'è Nell'altra Isoletta L'ultima isoletta Che mi manca Quella là con la sabbia Facciamo così 57 Potrei addirittura fare Una grande Cosa Passando per di qua No ma Mi sa che mi conviene passare Per di là Le spalme o blocchi Il bello che sto cercando di capire Se devo o non devo Posizionare Al monumento della sabbia Perché se devo dare della sabbia Potrebbe essere un leggerissimo problema Anche se non mi sembra Non dovrebbe servirmi Della sabbia Quindi posso andare a prendere Quel Fatidico Cactus Senza troppi problemi In realtà i problemi li faccio comunque Perché Insomma È comunque sabbia che fluttua Vediamo Con quanti blocchi riesco ad arrivare Se riesco a creare Neanche una mini piattaforma Per prendere il cactus Senza problemi Perché il cactus Magari mi serve Anche se a dirla tutta Senza sabbia Com'è che faccio Poi me lo spieghi L'alternativa sarebbe davvero Quella di cercare Di prendere un blocco di sabbia E mentre prendo il blocco di sabbia Quindi cade tutto Recuperare anche un pezzo di Cosa Di Di roba Ho i miei dubbi Però Se io faccio così È rimasto un cactus Lì Oh mio dio Non ci credo Oh mio dio Non ci credo Non è saltato Ho perso di nuovo Il piccone Non ci posso credere Guarda questa La terza volta che muoio No La seconda in questo episodio Allora Ora ho un cactus Dovrebbe essere ancora lì E posso prendere un pezzo di sabbia In questo modo Quindi dovremmo essere a posto Dico dovremmo Perché Io ho sempre i miei dubbi Guarda qui Che bellino Prima di procedere Non spaccherò Nessun blocco Finché non sono sicuro Di poter prendere Almeno un blocco di sabbia Perché non ha senso Mettermi il cactus E la sabbia Se poi il cactus Non mi serve a niente Quindi sono relativamente sicuro Che se non prendo la sabbia Non riuscirò a completare il monumento E mi dispiacerebbe Un pochino Quindi facciamo così Prendo Un altro po' di blocchi E faccio un altro po' di slab Giusto un po' 18 slab Con questi 18 slab Vado cattivo E cerco di prendere Almeno un blocco di sabbia Mission Mission impossible Recover the sand E il nuovo film con Tom Cruise In uscita in tutti i cinema Nel 2013 Cattivo Allora vedi che non cade Grande Ok Non sta cadendo Perché si vede che c'era C'è tanta roba qui Quindi proviamo a vedere Se c'è qualcos'altro Ok è caduto tutto Scherzavo Scherzavo La cosa importante È che ora abbiamo Della sabbia E possiamo far crescere Il cactus Vai cactus Grande cactus Sta facendo notte Tra l'altro Sbaglio Vabbè Andiamo avanti Senza problemi Ora devo ammetterlo Io ho comunque Dei grandi dubbi Riguardo a tutta questa storia Per un semplice motivo Non ho tantissima terra La terra che ho È lì È lì E comunque Lui mi chiede di fare Delle cose Tipo Maiali Cunigli Robe Che io sinceramente Non so come fare Poi c'è anche una cosa Dice piazza Una fonte d'acqua Quando io non ho solamente una E mi rende un attimo La vita difficoltosa Perché non ci sia qualcosa Sotto quest'isola Ma non mi pare ci sia E siamo un po' fattuti Ora guarda Io c'ho delle cose Che dicono Ghast Tear Se ne sbaglio C'è anche un cos'altro Che parla del nether Però non c'è niente Che parla Di ossidiana Quindi io questi dieci pezzi Di ossidiana Potrei usarli Per andare nel nether Potrei davvero E mi sa che lo farò Dove potrei fare Questo portale Bella domanda Io lo farei qui Completamente a caso Prendi dei blocchi di supporto Non molti Perché ho perso Di nuovo il piccone C'è una cosa di questo tipo Uno Due Tre Uno Due Perfetto Il portale ce l'abbiamo Ora è una questione Di accenderlo E di vedere Cos'è che c'è Nel nether Essenzialmente Come si fa Ad accenderlo Piazzerò dei blocchi Di legno Poi come si fa Per la skyblock Piazzo Dei blocchi di legno Tipo Così Questo blocco Li dammelo Non è che io sono proprio Nella migliore delle situazioni Per quanto riguarda I materiali Quindi un blocco di legno In più o in meno Fa la differenza C'è una cosa di questo tipo Poi prendo la lava Perché io Ho della lava E visto che la fint Probabilmente Non lo otterremo mai Nella vita Bisogna fare a mano Quindi Piazzare la lava Lasciare che prenda fuoco Dovrebbe prendere fuoco Dovresti prendere fuoco Zio Non so che rimane qua la lava No vattene Ok Se ne sta andando Vattene Non se ne va Lava via Ok Non ha preso fuoco Lo proviamo così Non sta esattamente Prendendo fuoco Ma non sta neanche Distruggendo il legno Ma è lava vera questa What the fuck Ha preso fuoco l'albero No ha preso fuoco l'albero No raga L'albero Cazzo Non vale Oddio da dove è uscito fuori Da dove è uscito fuori Quel creeper Poi me lo spieghi L'hai visto Cioè mi sono girato C'era un creeper Oddio cosa sta succedendo In questa mappa C'è qualche spirito paranormale Dobbiamo fare così Piazziamola al lato Dovrebbe prendere fuoco Lasciamola lì Per un po' E vediamo se prende fuoco Se prende fuoco bene Altrimenti Avremo un piccolo problema Ecco Unica cosa che mi viene in mente È che magari Completando alcune di queste cose Mi sblocca delle isole nuove Ok ha preso fuoco Presto fuoco Perché ora ha preso fuoco Più ma no Pezzo di merda Oh si è aperto Grande Grande che si è aperto il portale Grande così Ora senza niente A cazzo duro Senza futuro Andiamo a vedere cosa c'è nel nether Perché io Ho dei seri dubbi Su come riuscire a fare Tutto quello che mi chiede Spero ci siano altre isole Ok Ci sono Ci sono una isola Due isole E un ghast E un ghast E un fottuto Ti sono ghast Non è indietro Perluce Prima che tu mi spari Prima che tu mi spari Non mi spari Non mi spari Non mi spari Se spingi il portale Sono fottuto Ok Direi di evitare Per il momento Il tutto ciò Abbiamo recuperato un cactus Abbiamo aperto il portale del nether Siamo morti Della maniera più squalida Possibile In effetti Perché ho creato io stesso Il buco in cui sono morto L'unica cosa che posso fare davvero È Farmi un bel piccone Prendere uno stack Di cobblestone E vedere se succede qualcosa Che sarebbe davvero ideale Se succedesse qualcosa Dico È davvero molto molto contento Ok Siamo pronti Abbiamo uno stack Ehm Deposit 64 di cobblestone Deve rimetterlo intero Ok Achievement got Get Deposit 64 cobblestone Ok Cioè mi ha messo Messo la lana qui Mi ha messo la lana E allora Mi ha cambiato qualcosa A livello di mappa Dico Non penso mi sia cambiato Assolutamente niente Questo signore e signore Dimostrazione del fatto Che devo fare assolutamente Un mob spawner Perché ho bisogno di ossa Ho bisogno di cibo Ho bisogno di ferro Il ferro me lo danno gli zombie Ma gli zombie li ottengo Con il mob spawner Quindi So cosa fare Nel prossimo episodio Io dico che per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi voglio lasciare mi piace Se è piaciuto Se è piaciuto Se è piaciuto Iscrivetevi al canale Se è ancora mai fatto Se è piaciuto Se è piaciuto Se è piaciuto Se è piaciuto Comunque Gli altri vi saluto Ciao Grazie a tutti